Il falco, il simbolo del predatore temuto, iconicamente interpreti di fascino cinematografico e lirico, i falchi sono stati i protagonisti a Foggia di una dimostrazione live aperta al pubblico. Sono degli animali bisognosi di volare, quindi hanno bisogno di stare all'aperto e di condurre quotidianamente le loro ore di volo. Per stare in forma e volare ovviamente hanno bisogno di esercizio continuo, quindi non ci si può ricordare del falco nel fine settimana, non è uno sport come altri, è una passione che diventa poi una scelta di vita e lo facciamo proprio perché amiamo nel profondo questi rapaci, questi esemplari che riproduciamo nel nostro allevamento, quindi sono nati qui nell'agro di Foggia, nel territorio di Monte Sant'Angelo dove risiede l'allevamento. È rapace, è pericoloso e in realtà invece è un animale che va compreso e capito? Sì, ovviamente i rapaci sono muniti di becco e di artigli, sono in grado di uccidere in pochi istanti un colombo o una cornacchia, ma teniamo presente che in natura tutto ha un perché, ha il suo significato, sono degli indicatori biologici importantissimi, quindi la presenza di rapaci nel territorio significa un territorio ancora sano per fortuna, perché essendo all'apice delle catene alimentari deve essere garantita la loro sopravvivenza attraverso una serie di prede che ancora riescono a trovare nel nostro territorio.